Avete presente il meme di Mazzarri che indica l'orologio? Ecco, io credo che sia fortemente adeguato a quella che è la situazione attuale in casa Juventus Per un motivo, è il 30 di gennaio Va bene, è appena iniziata la giornata, d'accordo, perché sto registrando in mattina presto Però il mercato chiude poi il primo di febbraio alle ore 20 Quindi è vero che non siamo proprio all'ultimo secondo, è vero che non siamo proprio sul gong Però di tempo a disposizione non ce n'è così tanto E la Juventus adesso sì invece che vuole fare il centrocampista Siamo stati tutto il tempo, da prima che aprisse anche il mercato invernale Qui sul canale, sui social in generale, ne abbiamo sempre parlato Abbiamo sempre fatto capire che effettivamente numericamente la Juventus necessitasse di un centrocampista in più Le squalifiche di Pogba e Fagioli sono state pericolose E abbiamo sempre continuato a sentire invece questa teoritiera No, no, in un modo facciamo, ci può giocare quello, ci può giocare quell'altro Il mercato è chiuso, siamo a posto Così salvo poi gli ultimi giorni accorgerci, rendersi conto che effettivamente no Guarda, in realtà un centrocampista poteva starci Ieri abbiamo parlato di Buonaventura E vi avevo detto che era un nome che mi avrebbe gasato per quello che poteva essere il low cost E per quelle che potevano essere le tempistiche Era un nome che aveva la mia benedizione E infatti ovviamente cosa succede? Che la Fiorentina dice no La Fiorentina dice no La Fiorentina fa muro Buonaventura ha un contratto in scadenza al 2024 ma con un'opzione per il rinnovo Quindi la Fiorentina non lo considera effettivamente un calciatore in scadenza Buonaventura avrebbe invece volontà, piacere a cimentarsi in questa nuova sfida Ma la Fiorentina dice di no E allora la parola chiave per la Juventus in questo momento è risparmio Cioè il centrocampista si fa ma a costo zero Non c'è budget Bisogna cercare di trovare una formula interessante E allora diventa difficile Un giocatore forte Che giochi in quel ruolo lì Che possa darti qualcosa dal punto di vista sportivo Che costi poco e nel giro di 4, 10, 20 ore Perché bene o male le tempistiche poi sono queste Cioè se non arriva oggi deve arrivare domani Se non arriva domani deve arrivare dopodomani Ma bisogna già chiudere la trattativa Bisogna già arrivare con il contratto fatto Bisogna iniziare a stipulare il tutto Bisogna chiudere Bisogna spostarlo Cioè non è così facile mettere insieme tutto Perché se no si acquista tanto per acquistare Allora non mi va bene E allora si è fatto un sondaggio per un altro centrocampista Che ha delle caratteristiche interessanti Tecniche ma ovviamente non l'estro La fantasia di Bonaventura Un giocatore che conosciamo già Ed è Roberto Pereira Dell'Udinese Un giocatore che quest'estate è stato svincolato Dall'Udinese E non ha trovato nessuna squadra Salvo poi rifirmare per la stessa Udinese E ritornare in Rosa Quindi da svincolato a parametro zero Dopo che sul mercato non era appetibile per nessuno E Udinese ha detto Ma si guarda io te lo posso anche dare Però voglio 3 o 4 milioni di euro E la Juventus ha ritenuto fuori budget Questa cifra Per l'amor di Dio aggiungo io Meno male Meno male davvero Perché andare a pagare Pereira 4 milioni a gennaio Dopo che è stato svincolato E che non ha trovato nessun tipo di collocazione Sarebbe stato deleterio Un'operazione simile potrebbe ricordare Quella dell'Inter con Sanchez Che l'anno prima si becca una buona uscita Per firmare la recessione consensuale E poi viene ritesserato dall'Inter Perché si ritrova senza un giocatore Che possa ricoprire quella casella di punta di riserva Ecco Io starei ben lontano Da questo tipo di trattative Così come starei ben lontano Dal ritorno di Bernardeschi Perché io il mio eurino Ancora lo punterei su Bernardeschi Non si scappa da questa cosa qui Perché se devi mettere insieme Tutte quelle caratteristiche Un giocatore che costa poco Un giocatore che può firmare Un giocatore che può fare la differenza Loro vanno sul nome E vanno a prendere Bernardeschi Io ne sono convinto Guardate ne sono convinto Ne sono convinto Poi mi sbaglierò Sono contento di sbagliarmi Nel caso Però Bernardeschi sembra proprio Il nome fatto lì Buttato lì Tanto per farne uno Tanto per fare qualcosa Allora facciamo Bernardeschi No Delle due non ci sto Delle due non ci sto E allora Juve che cosa ha fatto? Mentre parlava con l'Udinese Ha detto Vabbè Per Eira no Ma Samarzic? Santo il signore Quanti mesi è che parliamo di Samarzic? Quanti mesi è che parliamo di Samarzic? Ne abbiamo parlato spesso e volentieri Anche nelle live qui su Youtube E tra l'altro oggi è martedì Quindi ci vediamo oggi pomeriggio Per la solita live Qui sul canale In cui faremo un po' un botta risposta Cercheremo di capire Se ci sono i movimenti di mercato interessanti E robe del genere Finalmente tornano le live Dopo un paio di settimane di assenza Per colpa della Youtuber League Di martedì scorso E della Juventus Invece che aveva giocato il martedì prima Samarzic è il nome A gennaio Samarzic è il nome E la Juventus avrebbe fatto una proposta All'Udinese anche questa bocciata Quindi siamo a quota due proposte bocciate Per Buonaventura e per Samarzic E una rifiutata dalla Juve Poiché troppo alta per la richiesta La proposta è la seguente Ci date Samarzic in prestito Ma senza obbligo di riscatto Io ci credo che possa essere stata rifiutata Dall'Udinese Ci mancherebbe altro Perché mai l'Udinese dovrebbe dire Vabbè dai Ti presto Samarzic Poi se non ti piace questa estate Me lo ridai indietro Così bruciamo completamente il mercato per Samarzic Samarzic è un giocatore Che ha una storia un po' particolare Perché Da quasi tesserato per l'Inter con visite mediche a Ness A quasi colpo di mercato del Napoli invernale A monitorato dalla Juventus quasi chiuso per il futuro Ah ora chiediamo il prestito Cioè Samarzic Lascerà mai Udine? Questa è un po' la domanda che inizia a frullarmi Per la testa E Samarzic sarebbe veramente l'innesto giusto Perfetto Perché va a unire tutto Va a unire la progettualità Va a unire il livello Va a unire la freschezza Va a unire Quelle che sono anche delle caratteristiche interessanti Che mancano all'interno della rosa E' ovvio che non va a unire La costa di acquisto basso Perché quando vai a prendere un giocatore del 2002 Che è a mercato Che sta facendo vedere belle cose Anche l'altra sera E' andato in gol con il Milan Non possono regalartelo E' impossibile arrivare a farti regalare un giocatore del genere Come fai? E allora almeno una proposta gliela devi fare Seria Cioè D'accordo Lo prendi in prestito E per l'obbligo ce lo devi mettere Ma te lo dico io che ti fai Juventus Figurati l'Udinese Che cosa ti potrebbe mai dire Ti devi fare un favore l'Udinese Un grosso favore l'Udinese Che poi deve anche unire Quelli che potrebbero essere risultati sportivi Perché l'Udinese deve lottare Per rimanere in Serie A Fino all'ultima giornata Perché poi sappiamo che un attimo Un paio di partite che vanno male E si aprano i scenari anche un po' così Quindi Io sono dell'idea che se te vai a Udine E gli proponi un prestito Con obbligo di riscatto Questi ti dicono di sì Però probabilmente la Juventus In questo momento non è nella condizione economica Di poter garantire questa roba qui Sappiamo che bisogna dare un occhio anche al portafogli Non solo un occhio al campo Uno e uno Bisogna guardare un po' da tutti e due i lati Bisogna stare attenti a queste cose E allora diventa complicato secondo me Cioè Allora diventa molto complicato Perché se questa è la situazione Allora a me viene in mente una sola cosa Anzi due Vabbè Va bene abbiamo visto Miretti Che sta facendo fatica Nonge Vogliamo provare Nonge Non si è convinti su Nonge Nicolussi Caviglia Da mezzala Che noi abbiamo visto soltanto interno Cioè A un certo punto poi devi far di necessità virtù Oppure magari È lo stesso Cambiaso Ti va a fare la mezzala E Ue A che diventa un titolare Non lo so Le sto buttando lì E dato che a breve poi ti torna De Sciglio Dopo avresti Costi C-Hilling per la fascia destra E Ue A De Sciglio per la fascia sinistra E Ue A De Sciglio per quella destra Non lo so Cioè Sto cercando di trovare una soluzione Certo è che arrivare Al 30 di gennaio Al 29 di gennaio sera E dire Oh In realtà ci serve un centrocampista Cerchiamo di muoverci Non è la migliore delle condizioni Per una squadra che Balla tra il primo e il secondo posto E tra sei giorni Devi andare a fare un scontro diretto Proprio in casa Dalla pretendente Non è La migliore delle condizioni possibili Secondo me Bisognava organizzarsi Muoversi un po' prima Se no ti ritrovi nella situazione In cui o fai un acquisto a caso O ti prendano per i capelli Anche per il Pereira di turno Meraviglioso giocatore Carriera fantastica Anche la Juve secondo me Ha fatto molto bene come riserva All'interno di un centrocampo pazzesco Però nel 2024 La Juve che a gennaio Mi va a bussare Odell'Udinese per Pereira Che è stato svincolato Sei mesi fa Perché non lo aveva nessuno E l'Udinese Che ti prende anche in giro E ti chiede 4 milioni Allora forse un po' dopo Te lo meriti E se l'Udinese ti chiede 4 milioni per Pereira Figurati se ti dà gratis Samarzic Ma figuratevi E allora le condizioni E allora ne prendi uno a caso E quindi prendi il Bernardeschi di turno Sennò devi trovare una soluzione Lo preferirei Lo preferirei Nonge O Miretti O Cambiaso O Nicolussi Non lo so Comunque in qualche modo La puoi fare Certo È ovvio Però sei sempre lì in emergenza Sei sempre lì che devi girare Sei sempre lì che devi mettere in dubbio Un po' mi dispiace Un po' mi dispiace La maggior ragione Perché davanti poi Sei andato a perdere una casella Come Ken E quindi Comunque sei andato ulteriormente A raccorciarti Una rosa Che è vero Assolutamente Cioè è solo il campionato Anche se poi ci sono le due semifinali Con la Lazio A un certo punto Che andranno un po' a disturbare Il calendario E speriamo anche la finale Però anche se è solo il campionato Mi sarebbe piaciuto cercare di farlo Nel migliore dei modi Fatemi sapere un po' La vostra qui sotto nei commenti Siamo in ritardo